Salve a tutti pellegrini e benvenuti in questo nuovo angolo del Tricchione. Io come al solito sono il vostro De Dello Trecesimo e quest'oggi abbiamo un'offerta davvero davvero interessante solamente per voi. Un bel giocone gratuito che potrete trovare su Indigala semplicemente mettendo la vostra email nel link che vi mettiamo in descrizione che vi permetterà appunto di accedere ad Indigala e di ricevere la chiave gratis da immettere su Steam in modo tale da avere il vostro gioco completamente gratuito. Il gioco di cui parleremo oggi è Street Racing Syndicate, gioco di corse automobilistiche in cui voi dovrete accumulare rispetto che vi darà in cambio. A Ritim, senti, c'è un problema. È praticamente l'angolo del Tricchione e il gioco è un po' strano, un po' particolare. Sai com'è? Cioè noi siamo corso videoludica, abbiamo anche il nome in latino. Non voglio che ci trasformiamo in un canale di quelli sozzi, sai, quelli scadenti per avere views facili. Che ne pensi? Seni! Sì perché per ogni punto di rispetto che otterrete avrete praticamente la danza di una bligiadra franciulla che vi intratterrà così, a caso. Praticamente sì, sono delle ragazze che vi faranno praticamente delle danze nel momento in cui voi accumulerete tot punti di rispetto per ogni gara che appunto avrete vinto. O in base alla posizione che avrete acquisito. Sì, la parola posizione all'interno di questo contesto è puramente casuale. Quindi, cari pellegrini, niente, se questo gioco vi interessa andate e prendetelo. Sì, ok, mi sa che è meglio che mi do una controllata. Quindi, spero che questo nuovo angolo del Tricchione vi sia piaciuto. Il gioco comunque è gratuito, se lo volete prendere, prendetelo. Non riesco a smetterla. E niente, se siete interessati comunque ad altri video, iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su e ci si vede al prossimo video. Un saluto dal vostro delottericesimo.